Buongiorno amici di Telemolise, ben trovati per questa prima edizione con l'informazione regionale. Oggi è sabato 27 febbraio e la sanità è in copertina con i piani operativi ancora al centro del confronto politico per una proposta abrogativa arrivata a Palazzo Moffa. L'idea è quella di cancellare l'attuale piano sanitario in vigore dal 2008 per favorire la strada proprio ai piani operativi che in alcuni punti sono in evidente contrasto con la legge ora vigente. A questo proposito il nostro direttore Emanuela Petiscia ha sentito il parere di Michele Iorio. Michele Iorio, martedì prossimo approda in consiglio regionale una proposta di legge a firma del governatore commissario della sanità Frattura e del presidente del consiglio Cotugno una proposta che deve, cioè mirata, individuare le leggi regionali sulla sanità in contrasto con il piano operativo. Per la sanità. Quindi prima domanda, questo piano operativo esiste, è stato approvato e non c'è più nulla da fare? Guardi, noi sappiamo come consiglieri regionali che il consiglio regionale dovrebbe esprimersi sul piano operativo portando anche alcune modifiche che sono state anticipate nei dibattiti di questi mesi. Abbiamo appreso solo in questi giorni, che è stato messo all'ordine del giorno, al primo punto all'ordine del giorno una proposta per abrogare le leggi regionali in contrasto, che è a sua volta in contrasto con quanto affermava il presidente di voler discutere prima i piani operativi. Io non credo che sia questa la procedura idonea a meno che il piano operativo non è già stato approvato e allora ci troveremmo di fronte a un'altra fattispecie. Il Molise si arrende, il Molise rappresentato dal consiglio regionale, qui non è solo una questione di PD o di diaspora interna al PD, si tratta anche di posizioni politiche di tutti i partiti rappresentati se condividono o no la resa incondizionata a quello che sta accadendo sul riordino della sanità. Quindi in sostanza si va ad agire sulle leggi regionali in contrasto con un piano operativo che non avete né discusso e al quale piano non avete apportato nessun emendamento. E allora mi chiedo, andando ad abrogare direttamente le leggi in contrasto, i cittadini non avranno più nemmeno un'arma per difendersi dal disastro della sanità, in particolare della sanità pubblica. Ma il problema è questo, la normativa costituzionale prevede il potere sostitutivo del governo regionale ma lo prevede nella persona del Presidente del Consiglio e del Consiglio dei Ministri. Oggi approvando quella proposta di abrogazione della norma regionale sostanzialmente la regione dice sì a quel piano operativo ma lo dice senza esserne consapevole e senza averlo condiviso. Se poi la maggioranza e i componenti della maggioranza si assumeranno la responsabilità con chiarezza nei confronti dei cittadini che condividono punto per punto tutto il piano operativo e allora il discorso assumerà un'altra valenza e spero che nel dibattito venga fuori con chiarezza questa posizione. Non si può operare con i trucchetti procedurali magari senza far capire ai cittadini che cosa sta accadendo. Nella chiarezza è tutto possibile ma il dibattito deve svilupparsi. Un progetto che si è messo alle spalle colossi dell'architettura italiana. Parliamo del vincitore del concorso di idee per la nuova sede della regione sull'area dell'ex Romagnoli e al posto dell'ex Hotel Roxy. A distanza di sei mesi dall'aggiudicazione il progetto è rimasto lettera morta e le zone d'ombra non si diradano. Sentiamo il servizio di Giovanni Di Tota. Fatta eccezione per la messa di Papa Francesco della quale per qualche mese ha testimoniato il ricordo l'altare poi rimosso l'area del vecchio campo sportivo Romagnoli resta lo spazio dell'inutilità e del degrado urbano del centro di Campobasso. La spelacchiata superficie del campo che vide i fasti della Serie B oggi è tornata ad essere calpestata da volenterosi ragazzi che si cimentano perfino con il rugby. Per il resto la desolazione è fotografata dalle centinaia di macchine parcheggiate ogni giorno. Il parcheggio è gratis e dunque molto ambito. Il Comune ogni tanto se ne occupa, la proprietà del suolo e dell'Hotel Roxy e della regione ma nella realtà prevale il disinteresse. A smuovere le acque era stato il bando di un concorso internazionale di idee per il progetto della nuova sede degli uffici regionali. Un'operazione da 50 milioni di euro di lavori che ha solleticato l'interesse degli studi dei più importanti architetti italiani. Un'ottantina di questi hanno presentato le loro soluzioni avveniristiche, ardite, in linea con l'esistente, come accade per ogni concorso. Milano, Roma, Torino, Bologna, Firenze, le proposte sono arrivate da tutta Italia. La commissione che ha dovuto valutarle ha premiato quella di una vecchia conoscenza del presidente Frattura, l'architetto Nicola Guglielmi. Questa, un cubo attraversato da una composizione a vetro. Il progetto, che si è messo alle spalle colossi dell'architettura italiana per partecipare, uno dei requisiti era avere un fatturato di almeno 100 milioni di euro è stato premiato anche con i 20 mila euro destinati al vincitore. L'Aggiunta regionale ha ufficializzato la graduatoria definitiva decidendo, a settembre scorso, di esporre tutte le soluzioni proposte nei locali della ex GIL. A cinque mesi di distanza, di quel concorso non si è più saputo granché. Il presidente Frattura, qualche tempo dopo, ha dichiarato che siccome il governo sta smantellando le province, il patrimonio immobiliare di quella di Campobasso potrebbe andare benissimo per soddisfare le esigenze della regione e dei suoi uffici. Dunque, frenata e addio alla nuova sede al posto del Roxy. Ma intanto, alcune zone d'ombra restano. 40 mila euro pagati ai primi tre classificati del concorso internazionale, la mancata esposizione dei lavori alla GIL, nessuna rimostranza da parte di chi ha vinto o anche perso quel concorso per l'improvvisa marcia indietro della regione. Intanto, in pieno centro città, migliaia di metri quadri, che potrebbero diventare altro, sono occupati dalle auto, in attesa di un altro papa. Via libera del Consiglio Comunale di Campobasso al piano sociale di zona 2016-2018, che comprende 25 centri e che vede il capoluogo come comune, capofila. Il progetto consentirà la gestione associata delle funzioni, oltre che dei servizi e degli interventi di carattere sociale su tutto il territorio di competenza. Questa è l'ultima notizia, passiamo adesso alla rassegna stampa. La rassegna stampa di Telemolise parte come ogni mattina, dando uno sguardo alla home del giornale del Molise.it. Ricostruzione post-sisma al collasso, precarie imprese alla canna del gas di Pasquale Di Bello. Medici obiettori di coscienza aumentano gli aborti clandestini in Molise, stimati 75 all'anno. Scomparso nella notte da casa, anziano trovato morto ai piedi di un dirupo. Riunione sul futuro dell'ospedale di Venafro, Sorbo dice, allibito per la mancata reazione. Si parla anche del Parco Nazionale del Matese sul giornale del Molise.it. Ruta del PD dice, vittoria storica per il Molise. Campo Basso Scuole Sicure, i ragazzi di Via Crispi si trasferiscono alla Dovidio Jet, alla Via il Campo Basso Soul Beat Festival. Ancora la giudiziaria, tentato omicidio, Messere e Lanesi ottengono un ulteriore sconto di pena per Umberto Santoro. Violenza sulle donne, socialisti premono per una legge regionale. Trasferimento del prefetto di Isernia, indagine sul ministro degli interni Alfano e poi sul giornale del Molise.it.tar inaugurato l'anno giudiziario, il presidente Silvestri dice a luglio il processo telematico. Banconote false, trentenne Isernino fermato dai carabinieri, i consigli per evitare raggiri Isernia, società fantasma di autonoleggio perquisite da polizia e guardia di finanza. Sul giornale del Molise.it troverete altre notizie che riguardano la nostra regione, l'Italia e il mondo. E passiamo adesso ai quotidiani regionali, iniziamo da primo piano Molise. Una sanità a misura di paziente e non per i medici. Dibattito aperto sul piano operativo, in molti si schierano con le strutture convenzionate che offrono cure a chiunque. Il movimento di cittadini spinge per l'integrazione tra Cattolica e Cardarelli e replica al rettore dell'Unimol, la chiave di volta e la collaborazione. Passiamo a centro pagina. Si parla del tragico incidente a Orbassano. Schianto contro un palo del semaforo perdono la vita. Due fratelli, dramma in Piemonte, dove vivevano Matteo e Catriel Forte, di 19-20 anni, originari di San Martino in Pensilis. A Venafro si spegne la protesta. Quasi tutti d'accordo con la riforma del governatore. Frattura illustra il nuovo Santissimo Rosario. Una notizia da Iserne a Zuccherificio, rinviati a giudizio per riciclaggio Remo Perna e Deni Romano. La notizia dall'Abruzzo, vasto a fuoco quattro auto in un complesso residenziale, la polizia indaga per incendio doloso di taglio basso. Si allontana da casa, trovato morto in fondo al burrone, il decesso dell'86enne di Porto Cannone causato da una caduta. Gli alunni della Scarano, da lunedì in via Roma, ma le polemiche continuano. Il Movimento 5 Stelle denuncia la Dovidio e come la scuola di Via Crispi. E poi lo sport, alla vigilia del derby del Civitelle, Lupi, Parla Teti, Agnonese, peggior avversario possibile. Passiamo adesso al quotidiano del Molise. L'apertura è per la sanità. Cardarelli, parte la mobilitazione. Intanto il Comitato per la Sanità di Qualità ribadisce il suo appoggio ai piani operativi di frattura da martedì, stato di agitazione permanente. Lo ha deciso ieri il forum. Di taglio alto, Alfano indagato, caso nato morto, il prefetto di Isernia dice no comment. Il ministro dell'Interno getta acqua sul fuoco, nessun abuso d'ufficio, fu un trasferimento regolare. Torniamo al centro della pagina del quotidiano del Molise. Campo Basso, il corso, riapre alle auto per un'ora. Isernia, riciclaggio, rinviato a giudizio Remo Perna. E poi Parco Nazionale, Ruta dice valorizzeremo il Matese. La cronaca Porto Cannone si allontana da casa, lo ritrovano morto nel dirupo. Infine lo sport, Serie D, Campo Basso, già staccati 150 tagliandi. Stasera, festa Smoked. E poi Olimpia Agnonese, arriva la firma di Guadalupi. Eccellenza, si giocano quattro anticipi. Il Campo Basso, 19-19, cerca punti, salvezza. La gazzetta del Molise, giù le mani dalla corte d'appello. Una battaglia di popolo e di territorio. Il governo, la vuole tagliare, significherebbe l'abbattimento dell'ultimo baluardo dello Stato in Molise e la cancellazione della stessa autonomia regionale. La gazzetta del Molise dà l'Oscar del giorno a Monsignor Gabriele Teti, il tapiro del giorno a Salvatore Ciocca. Torniamo sul web futuromolise.it. Nella home troviamo i precari del sisma 2002. replicano al consigliere Ciocca, basta sarcasmo gratuito sulla pelle dei lavoratori. E poi Isernia, fratelli d'Italia, abbandona il centrodestra. Forza Italia dice, così si finisce per alimentare ulteriormente l'antipolitica. Campo Basso, nella home di futuromolise.it, la fine della biblioteca albino decretata dal disinteresse regionale. insorge Claudia Mistichelli dell'Associazione Campo Basso Insieme. Nella home di futuromolise.it troverete naturalmente altre notizie che riguardano la nostra regione, l'Italia e il mondo. Passiamo adesso ai quotidiani nazionali. L'inizio è come sempre per il Corriere della Sera. La tregua tra Renzi e Juncker, il vertice incontro dopo le polemiche. I tecnici di Bruxelles richiamano Roma per fisco e casa. Intesa per lavorare insieme su deficit e rifugiati. Il leader dell'Unione Europea dice, l'Italia come modello. A centropagina, la fotonotizia. L'Iran e la libertà di votare alle urne. Test sulle riforme per il presidente Ruani. Il caso La Verità su Regeni, ucciso da torturatori per le sue ricerche. I PM di Roma smentiscono il Cairo. E poi di taglio basso, addio Blatter, eletto l'italiano infantino. No allo sceicco, lo svizzero calabrese capo del calcio mondiale. Era vice di Platini alla UEFA. Il quotidiano La Repubblica. L'apertura è dedicata alle unioni promosse da 7 italiani su 10 no alle adozioni. Sondaggio Demos cala la fiducia nel governo. La fotonotizia, il colloquio, l'ultima vendetta di Le Pen, Marine ha tradito e la pagherà. E poi di taglio basso, il dibattito sulla denuncia della Cattaneo. Perché il piano del dopo Expo è la strada sbagliata della scienza. Passiamo adesso alla prima pagina del quotidiano La Stampa. Migranti, allarme e sbarchi in Puglia. Con la chiusura della rotta balcanica, la pressione dei profughi si riversa. Su Albania e Kosovo, Nato in allerta. Di centro pagina, armi chimiche, l'Isis può colpire in Europa lo scenario nel dossier dell'Europarlamento. Il quotidiano Il Mattino di Napoli, scuola, agguato alla riforma. I sindacati vogliono bloccare i decreti attuativi sui premi di merito. Braccio di ferro al Ministero. La CISL dice stop ai bonus dati dai presidi. Il governo si ricordi che arrivano le elezioni. Il tempo di Roma, Salvini contro Bertolaso. Il match si apre sul tempo. I due a confronto, oggi e domani, le primarie della Lega. Matteo dice lascia scegliere ai Romani. Guido risponde tanto vinco io. La prima pagina del quotidiano, l'avvenire accogliere profughi. L'Europa è alla rissa. In Siria parte la tregua con il sì dei ribelli. Crisi umanitaria in Grecia. Atene respinge il ministro austriaco dopo l'esclusione dal vertice nei Balcani. A Calais pronto lo sgombero. Il fatto quotidiano. Agganciamo subito Alfano. Prima che vada in vacanza. Lo scandalo viminale. Le intercettazioni sul prefetto anti Crisafulli rimosso. E poi il vero Job Act. Generazione Voucher. 1,7 milioni di super precari dalla Will. La prima analisi. Passiamo adesso a libero il puparo. Questo è il titolo di apertura. Napolitano è sempre in campo a tessere le sue trame. Ieri ha incontrato per quasi un'ora il presidente della commissione UE. Prima che lo facesse Renzi. Poi il premier ha calato le brache davanti a Juncker. Il secolo d'Italia. Unioni civili. Dalle pensioni. Un salasso di 23 milioni. E non finisce qui. Poi in primo piano il soccorso di Verdini a Renzi fa infuriare la minoranza DEM. Dal secolo d'Italia passiamo alla prima pagina della Gazzetta dello Sport. Eletto il presidente FIFA infantino. L'italiano che deve cambiare il calcio. Pronostico ribaltato per il dopo Blatter. Trionfa il vice di Platini. Mi aspetta un'impresa ma torneremo a crescere. Di taglio basso. Sei nazioni a Roma. L'Italia del rugby ci riprova contro la Scozia. E il cucchiaio. E con la prima pagina della Gazzetta dello Sport si chiude l'appuntamento con la rassegna stampa di Telemolise. Grazie per averci seguito. Vi auguro un buon proseguimento di giornata.